Grazie a tutti. Ah, aspettate che è uscita dall'Expo. Nella quale abbiamo dimostrato che i cuochi nel 2017 sono molto di più che la somma delle loro ricette. E abbiamo dimostrato che essere in 2017, il top chef è utilizzato un'esercitazione e un'esercitazione di nuove ricette. E se tutti uniti possiamo avere una voce molto forte. E se tutti uniti possiamo avere una voce molto forte. Gli altri ministri, ascoltare e parlare, dopo che mi hanno ascoltato parlare, si sono alzati alla fine del discorso. Sono venuti ad approcciarmi dicendo vogliamo questo progetto anche noi, vogliamo questo progetto. Il ministro inglese mi ha portato il biglietto, se hai bisogno per Londra dimmelo, ne abbiamo già fatto. E il ministro giapponese dell'agricoltura, una signora, mi ha dato il suo biglietto e mi ha detto «Noi vorremmo avere questo per Tokyo 2020». Posso parlare? Sì, per esempio G7, quando Massimo ha parlato, il ministro dell'agricoltura 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 dell'agricoltura. Sì, il ministro dell'agricoltura 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 dell'agricolt 2020 anni, in Tokyo Oliopera, in cui l'Efettore, in Tokyo, è un'ottima starte, non? E' un'ottima, non? C'è un'ottima, non? Si, si. Si. Ma non è vero, non? Si. Grazie.